Immaginate un mondo dove si produce corrente senza inquinare nemmeno un po'. Qui è possibile. In questa azienda tre fratelli sfruttano la fermentazione del materiale organico e lo trasformano in biogas, una miscela di metano e biossido di carbonio. Il biogas viene poi bruciato e trasformato in elettricità grazie a questo motore da 1300 cavalli. Per il processo viene utilizzato principalmente mais, coltivato nei 290 ettari di terreno dell'azienda, ma anche scarti agricoli come estanza di olive e vinacce. All'interno di queste vasche il materiale biologico fermenta e una volta fermentato produce dei gas che vengono poi trasformati in energia elettrica. In questa azienda ne viene prodotta circa 23 megawattora al giorno, ma portare avanti un progetto così richiede molti investimenti e soprattutto tanta pazienza. La burocrazia purtroppo è quello che sia in questo settore, in agricoltura, ma basta sentire anche tutti gli altri settori, è sempre il problema principale dell'Italia. Purtroppo fare una cosa in Italia ci vuole 4-5 volte quello che ci vuole in altri posti. Difficoltà a parte, la strada delle energie pulite potrebbe essere proprio questa. Le energie rinnovabili in tutte le sue forme avranno senso se vengono portate avanti in tutte le loro tipologie e in piccole centrali sparse sul territorio. Consumare di meno e produrre di più per poter guardare dentro il futuro delle energie rinnovabili.